Buongiorno e una buona domenica a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. C'è stato un incidente nella notte a Dignano, in particolare attorno a Luna della scorsa notte. Un tir che stava trasportando un carico di legname si è ribaltato lungo la regionale 463 tra Dignano e San Odorico di Flaibano. L'incidente, seppur con una dinamica importante, non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto la SOTE si è inviato l'equipaggio di un'ambulanza da San Daniele e l'elissoccorso. Il conducente del mezzo è stato portato in codice giallo all'ospedale di Udine. Sul posto i Vigi del Fuoco e le Forze dell'Ordine per quanto di competenza. Sempre attorno a Luna di notte si è verificato un incidente a Monfalcone. In via 1 maggio due le vetture coinvolte e due persone rimaste ferite in maniera seria. Sul posto un'ambulanza da Monfalcone, l'automedica da Gradisca e una seconda ambulanza da Grado. Le due persone ferite sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Le cause dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'Ordine. Un lucido visionario che ha immaginato l'Università del Friuli come motore per uno sviluppo capace di coniugare la ricostruzione materiale dopo il terremoto con quella etica e morale della comunità locale. Il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin ha ricordato così la figura del professore Tarcisio Petraco alla presentazione in Castello a Udine della ristampa del volume La lotta per l'Università Friulana. L'intuizione che il professor Petraco insieme agli altri ebbe insieme ai 125 mila friulani che chiesero l'istituzione dell'Università del Friuli fu quella proprio di immaginare l'Università come motore di sviluppo economico, etico, sociale di un territorio che a quel tempo era arretrato e individuando il terremoto come elemento che insieme alla ricostruzione dell'edilizia avesse anche una ricostruzione di carattere sociale. Quel messaggio che poteva sembrare forse campanilistico al tempo invece oggi si dimostra un messaggio potente e modernissimo perché lui immaginava la promozione di una comunità di identità attraverso l'Università per fare di questa comunità un popolo, un popolo che potesse parlare con altre comunità magari di paesi vicini per costruire anche in questo modo in maniera responsabile l'Europa delle Regioni e delle Comunità che è naufragata invece sull'egoismo degli Stati e quindi Friuli un'Università che promuove una comunità, che parla con altre comunità oltre confine che fanno insieme una politica per l'Europa e per i propri cittadini. Restiamo a Udine, in particolare in Piazza Primo Maggio perché il bel tempo di oggi, la giornata festiva, ha richiamato tantissime persone per l'ultima giornata della Fiera di Santa Caterina. Le oltre 200 bancarelle sono state prese da salto dei visitatori che hanno quindi colto un'occasione di socialità e di spunti per acquisti e l'insegna di risparmio dal vestiario ai casalinghi, dalla gastronomia all'artigianato. La Tre Giorni di Sardin Grant che anima il centro storico di Udine fin dal 1380 è la prima senza le restrizioni anti-Covid che hanno caratterizzato le ultime due edizioni in pandemia. Torna un panettone per la vita, evento solidale dell'Associazione Donatori di Midollo Osseo. Torna anche in Friuli Mezza Giulia un panettone per la vita, l'iniziativa natalizia targata ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo. Fino all'11 dicembre i volontari saranno presenti in diverse piazze della regione con delle postazioni presso le quali sarà possibile acquistare il proprio regalo solidale, un panettone o un pandoro elegantemente confezionato. I fondi raccolti verranno utilizzati per continuare le nostre molteplici attività di sensibilizzazione alla donazione di Midollo Osseo su tutta la regione. Un panettone per la vita ha permesso in questi anni di informare la popolazione sulla donazione di Midollo Osseo aumentando sensibilmente il numero dei donatori italiani iscritti al registro, un numero che purtroppo non è sufficiente perché in caso di donatore non consanguineo la compatibilità con la persona malata in attesa di trapianto si verifica in un caso su 100.000. Se non riuscite a raggiungerci ai nostri banchetti è sempre possibile ordinare i panettoni sul sito nazionale www.admo.it.natale. Ieri sera al Teatro Zancanaro di Sacile tutto esaurito per la penultima data del volo del jazz. Tutto esaurito ieri sera al Teatro Zancanaro di Sacile per la penultima data della diciottesima edizione del volo del jazz, la rassegna organizzata dal circolo Controtempo. Sul palco sono arrivati i Cocorocco, gruppo londinese guidato dalla trombetista Sheila Morris Gray, considerato la punta di diamante dell'afrobeat nel mondo. Attesi soprattutto dal pubblico giovane, i Cocorocco, che in lingua urobo significa essere forti, hanno trascinato il pubblico con i loro ritmi ossessivi che hanno evocato nell'ascoltatore un'esperienza di trans estetica. Attivi da quattro anni, con tre singoli e un EP alle spalle, la band sconfina in più generi dal funk al jazz, dalle musiche dell'Africa occidentale, ai ritmi giamaicani e ai suoni urbani londinesi. I Cocorocco, i cui membri sono figli della diaspora afro-caraidica, vantano cifre a 6-0 sui social. La loro Abuse Junction si avvicina ai 100 milioni di visualizzazioni su YouTube, un successo virale raro nella scena del jazz. Il volo del jazz si chiuderà sabato 3 dicembre con il trio del fisarmonicista Vincent Perani. I gallesi HMS Morris hanno vinto l'ottava edizione di Suns, il Festival delle Arti in lingua minorizzata, organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana. La serata conclusiva con l'immancabile concertone, ieri sera al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. A conquistare il pubblico del teatrone, quindi la giuria popolare, è stato invece Massimo Silverio, che per la prima volta in assoluto ha portato il Friuli ad uno dei premi di Suns. Le sue melodie morbide, taglienti, cariche di emozione, hanno visto i Friulani rispecchiarsi nella sua personalissima lettura degli stilemi musicali carnici che lo collocano saldamente nella sua cercivento, mentre il coraggio e la raffinatezza del suono gli danno un respiro internazionale. Per lui il premio Guglielmo Tonelli, consegnato da Marianna, una sorella del giovane musicista prematuramente scomparso lo scorso anno e cui gli organizzatori hanno deciso di dedicare il riconoscimento. Uno spettacolo che resiste ancora sulle scene a 30 anni dal suo debutto. Stiamo parlando di Oilem Goilem, che rivelò il genio di Moni Ovadia a aperto la stagione dell'Air Tartegna. Con Oilem Goilem, il mondo escemo in lingua yiddish, spettacolo nella forma classica di cabaret, sulla condizione universale dell'ebreo errante, al nuovo teatro Monsignor Lavaroni di Artegna si è aperta la nuova stagione prosa dell'Air, ente regionale teatrale realizzata in collaborazione con gli amici del teatro di Artegna. Una platea gremita per l'appuntamento con Moni Ovadia, scrittore, attore, musicista e cantante ebreo milanese, che con la sua stage orchestra è tornata sui palcoscenici italiani con lo spettacolo che 30 anni fa lo fece conoscere al grande pubblico e questo rivisitato presenta un affresco del popolo ebraico come non l'abbiamo mai visto. Con l'ironia che gli è propria, il narratore ebreo errante presenta nella forma classica del cabaret un quadro di culto antidoto alle violenze, intolleranze e rassismi vecchi e nuovi, con carrellata di lingue, tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, umorismo e chiacchiere, battute fulminanti, citazioni dotte, aneddoti, scherzi e una musica che fa incontrare il canto liturgico con le sonorità zigane. Ciò che rende speciale il mondo escemo, l'Oylem Goylem per l'appunto uno dei vertici della produzione di Moni Ovadia, è l'intera dedica a quella parte di cultura ebraica di cui lì dice la lingua ed il kletzmer la musica, termine che deriva dalle parole ebraiche Kleytsemer, afferente gli strumenti musicali, violino ed archi in genere e clarinetto con cui si suonava la musica tradizionale degli ebrai dell'est europeo a partire dal XVI secolo, dal canto dolente e monocorde che fa rivivere il clima di preghiera della sinagoga all'esplosiva festosità di canzoni e ballate composte per occasioni liete. La nostra pagina sportiva con il basket, ieri sera prima sconfitta a Casalinga per la UEBG Stecco Cividale che dopo una super partenza si è fatta rimontare e superare da Ferrara. Primi tre punti in A2 per Clark che va ad un passo da pareggiare la gara, cinque secondi dal termine dell'uso per il risultato il presidente Mikalic. Siamo partiti fortissimo, forse troppo ci ha detto, perdere così fa male. Dopo una serie di partite vinte al photo finish questa volta le ultime battute sono risultate fatali alla Gesteco che cede il passo a Ferrara proprio alla fine di una gara che per lunghi tratti aveva dato l'impressione di potere anche questa volta condurre in porto davanti al suo pubblico. Pillastrini schiera in partenza a Rota, Moat, Pepper, Dell'Agnello e Miani e i suolo di Pagano con una partenza a Razzo si portano sul 20 a 2 a 4 e 21. La prima frazione si chiude con eloquente punteggio di 31-16 e con i primi tre punti del neo arrivato Clark. Nel secondo periodo volano sul 40 a 18 a 5 e 45. Ferrara però rientra in partita e sfrutta un blackout offensivo delle Aquile portandosi sul meno 6 all'intervallo lungo. Nella seconda metà diventa la gara difficile che ci si aspettava alla vigilia con Ferrara che impatta la parità 51 a 51 ed è perfetta parità anche prima dell'ultimo minuto 68 a 68. Dopo una palla persa da Rota è un errore in attacco degli estensi la palla del possibile overtime in mano ai gialloblu di casa ma il ferro respinge la tripla di Clark e condanna i ducali alla prima sconfitta casalinga stagionale. Stava una palla canestro abbiamo fatto 15 minuti fenomenali abbiamo preso un vantaggio ampissimo sembrava una passeggiata invece loro sono dei bravi perché punto su punto sono arrivati a meno 6 all'intervallo poi abbiamo ripreso 13 punti nel terzo quarto e lì sembrava andata invece abbiamo preso aggressività e poi facciamo i complimenti all'avversario che non hanno mai mollato per noi è una sconfitta veramente che brucia. Bisogna ripartire da quei primi 10 minuti con percentuale di rimbalzo pazzesche, triple di continuo. Forse anche troppo bene giocavamo però brucia brucia e questo è il bello e il brutto del basket loro fanno festa e noi ci le chiamano le ferite ci è capitato il contrario altre volte però così fa male perché la squadra è in bombissima in bombissima poi nel finale stavolta abbiamo avuto un po' meno lucidità di altre volte e loro ci hanno punito con merito. E' tutto per questa edizione l'informazione su Telefriuli ritorna questa sera come sempre alle 19 grazie per averci seguito e un buon proseguimento di domenica a voi, arrivederci. Grazie per aver guardato il video